Ciao, lo sapevate che oggi è il 3 ottobre 2018? Bene, allora prendete subito il vostro rower e riscaldatevi facendo 500 metri a cui poi faremo seguire 3, anzi 5 ripetizioni per ogni lato e per ogni direzione di Controlled Articular Rotation per le scapole e di Controlled Articular Rotation per le spalle naturalmente gli esercizi sono sempre inclusi nella scheda che trovate sul sito andiamo poi a fare un lavoro di forza e costruiremo 5, 4, 3, 2, 1 push press chiaramente con l'aumento, con la diminuzione delle ripetizioni ci sarà un aumento del carico il volo di oggi ogni 3 minuti per 4 round faremo 15 o 12 calories rows a seconda che siete uomini o donne 10 barbers facing barpees, quei barpees che vi piacciono tanto e poi max push press per arrivare alla conclusione del tempo non ci sono pause tra i vari round, le scalature e i carichi le trovate come sempre nella grafica qui di fianco ciao a domani